Scommesse, confiscati beni per 500.000 euro a un imprenditore agrigentino. Telefonate dopo la denuncia per maltrattamenti, aggravamento della misura cautelare per un sessantenne, ora l'uomo si trova in carcere. Abusivismo commerciale, 11 sanzioni a Caltanissetta, sequestrata merce di dubbia provenienza. Consiglio comunale sul debito Ato, presenti anche gli ex sindaci Messana e Ruvolo. Lutto tra i volontari della protezione civile e morto Luciano Pilato. Calcio Coppa Italia di eccellenza, ritorno degli ottavi di finale a Cragassenissa alle 15.30. Confiscati beni dal valore di 500.000 euro ad un imprenditore agrigentino per esercizio abusivo di gioco e scommesse e truffa aggravata. Il provvedimento, eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, su disposizione del Tribunale delle misure di prevenzione di Palermo, è il risultato dell'attività investigativa condotta dalla DIA, che analizzando la carriera imprenditoriale del soggetto, ne ha messo in luce la pericolosità sociale. Secondo gli inquirenti, l'attività illecita dell'imprenditore sarebbe stata attuata al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno dello Stato, sfruttando società estere per indirizzare proventi delittuosi dei flussi finanziari generati. Il decreto di confisca riguarda quote di partecipazione in società anche estere esercenti l'attività di raccolta di scommesse, due auto di lusso, diverse polizze assicurative, conti correnti, depositi a risparmio. La pericolosità sociale dell'imprenditore, inoltre, ha reso necessaria l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni. Aggravamento della misura cautelare per un uomo di Serra di Falco di 66 anni, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Caltanissetta Santi Bologna ha disposto la custodia cautelare in carcere. Maltrattamento in famiglia l'accusa che gli viene attualmente contestata e che nel recente periodo gli era costata l'applicazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie, la quale aveva presentato una querela. Ma dall'inizio di ottobre ad oggi, secondo quanto emerso dalle carte dell'inchiesta, l'indagato non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte dal giudice, tanto da contattare ripetutamente la persona offesa via telefono, la quale è stata anche costretta a bloccare il numero dell'ex marito. Nonostante ciò, l'uomo ha provato a contattare la figlia in maniera insistente, tanto che anche quest'ultima è stata costretta a bloccarlo e non contento, l'indagato si è rivolto pure alla nuora per cercare di contattare la ex moglie. Per il GIP Bologna c'è anche il rischio di inquinamento delle prove. L'indagine per maltrattamenti infatti non è ancora chiusa e il Serra di Falchese ha anche cercato più volte di convincere la ex moglie a ritirare la querela, minacciando pure di suicidarsi in caso di rifiuto della propria richiesta. Le tensioni tra due vicini di casa canicattinesi sono sfoggiati nella denuncia per minacce presentata da uno dei due contendenti. Una vicenda che affonda le proprie radici nel tempo, visto che tra i due canicattinesi, i rapporti sono sempre stati piuttosto tesi, nel dettaglio per questioni condominali e pagamenti di utenze. Tensioni che hanno raggiunto il loro apice nei giorni scorsi, secondo quanto ricostruito fin qui dai poliziotti del commissariato di Canicattì. I due protagonisti in negativo della vicenda hanno affrontato l'ennesima discussione dai toni piuttosto accesi, finché uno dei due ha minacciato di morte l'altro, che si occupa anche della contabilità condominiale. O almeno questo è ciò che emerge dalla denuncia che quest'ultimo ha presentato in commissariato. Stavolta al centro della lite la questione legata alla pulitura del piazzale condominiale. Ed ecco che sempre secondo la ricostruzione investigativa era nata la nuova diatriba, fino a quando l'indagato avrebbe detto di non avere più intenzione di pagare il condominio e che avrebbe sparato in bocca all'altro residente. Scena alla quale, a quanto sembra, hanno assistito anche altri condomini. Lutto nella comunità di Santa Barbara e non solo. Si è spento il capogruppo scout della parrocchia Massimo Sicilia, cinquantenne, ad annunciare la triste notizia e il parroco Don Marco, che scrive in un post su Facebook. Siamo profondamente addolorati nell'apprendere questa triste notizia, anche se purtroppo preparati da giorni a questo umano distacco a motivo del peggioramento delle sue condizioni di salute. Il parroco aggiunge, caro Massimo, ti ringrazio a titolo personale e dell'intera comunità parrocchiale per il servizio svolto in questi tre anni in mezzo a noi e soprattutto ti sarò grato a vita per averci permesso di avviare l'esperienza scout nel nostro quartiere. Pur non vivendo a Santa Barbara, sottolinea Don Marco, sei riuscito ad entrare subito nel cuore dei ragazzi e a farti stimare in poco tempo dalle famiglie e dai collaboratori parrocchiali, evidenziando sei stato un educatore appassionato che ci ha trasmesso l'amore verso le nuove generazioni, sempre pronto al servizio, non ti sei mai tirato indietro e hai avuto la capacità di stimolare il gruppo in ogni momento. I funerali di Massimo Sicilia, giovedì alle ore 15.30 in Cattedrale. Dopo un'ora di ritardo per mancanza del numero legale dei consiglieri presenti in aula, 12 poi diventati 16, si è tenuto ieri sera il Consiglio Comunale monotematico per affrontare la questione del debito Ato, che il Comune ha deciso di pagare due anni fa chiedendo un'anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti per saldare il debito di 10 milioni di euro da restituire in 30 anni. Il sindaco Gambino ha dichiarato che oltre il nostro Comune anche altri Comuni hanno fatto lo stesso, dopo aver seguito un lungo percorso sulla base di quattro ordinanze emesse dal Tribunale di Caltanissetta. Sulla stessa linea d'onda l'assessore al bilancio Luciana Camizzi, dopo un lungo discorso accompagnato dalle slide per spiegare i presenti in aula consigliare. Dopo si sono susseguiti i due ex sindaci Salvatore Messana e Giovanni Ruvolo, mentre i due cittadini prenotati per esprimere il loro punto di vista si sono soffermati sugli accantonamenti fatti a partire dal 2010. Dopo la parola è passata ai consiglieri comunali che con il passare del tempo si è deciso di rimandare tutto di 24 ore perché è venuto a mancare il numero legale per continuare il Consiglio Comunale. La risposta di più città risultato post elezioni del 25 settembre scorso guarda la concretezza e una strategia strutturata intorno alla quale il civismo diventa centrale. L'obiettivo sarà quindi tornare a parlare con le persone e tra le persone anche attraverso l'istituzione di osservatori sociali, dei diritti di cittadinanza, delle minoranze per trattare temi che determinano il presente e il futuro dei cittadini come il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla genitorialità, alla cultura, alla cura dell'ambiente, alla parità di genere e alla pace. Speriamo di poter costruire anche con partiti politici o con chi si riconosce comunque in forze progressiste e democratiche degli osservatori. Questi osservatori dovrebbero avere a nostro avviso almeno due funzioni. Una funzione è quella proprio dello studio, cioè analizzare quali sono gli elementi di maggiore fragilità, debolezza e disuguaglianza all'interno della nostra città e dopodiché coinvolgere gli stessi cittadini non soltanto in forma associata ma anche in forma libera e singola in un percorso di risoluzioni possibili. Questo secondo noi è l'elemento che il civismo ha in più rispetto al partito. Muovendosi in maniera informale esso può contattare e in qualche modo non mettere un cappello di nessun genere neanche di tipo ideologico sulle idee e sui valori anche delle persone. Ovviamente noi ci muoviamo all'interno di un'area democratica che pensa soprattutto allo sviluppo dell'autonomia del cittadino e quindi della sua libera opinione. Uno sguardo fiducioso che vede risposte nelle buone prassi e nello studio dei bisogni reali del territorio. San Cataldo ha ricevuto la benedizione da parte dell'arciprete Don Alessandro Giambra al termine della processione del Santissimo Crocifisso portato a spalla dai devoti portatori. Un percorso seguito da numerosi fedeli lungo le strade del centro storico cittadino dopo la celebrazione della Santa Messa solenne. Il Santissimo Crocifisso domenica 9 ottobre ha attraversato via Cavour, Corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, piazza San Giuseppe per poi rientrare in chiesa madre soffermandosi per qualche minuto nel piazzale per la benedizione ad accompagnare la processione, il clero, le autorità civili e militari, le diverse confraternite della città e ancora le note suonate dalla banda musicale. Giorni di festa per San Cataldo che terminano anche con la fine della fiera. Quella di ieri è stata l'ultima sera e il pomeriggio è stato dedicato alle associazioni che si occupano di persone con disabilità e alle comunità alloggio, per loro la possibilità di usufruire gratuitamente delle giostre. Questa è una fiera di e per tutti, ci teniamo particolarmente a questo pomeriggio di inclusione, abbiamo detto, anche questa è la fiera dell'inclusività. Vogliamo per questo ringraziare gli esercenti degli spettacoli viaggianti che davvero ci hanno dato la loro piena disponibilità e insieme a noi hanno voluto fortemente questo pomeriggio di condivisione e di collaborazione come senso proprio di unione perché da soli non si va da nessuna parte, mentre insieme davvero si raggiungono questi risultati così importanti che certamente ci gratificano. Non potevamo finire questa fiera in maniera diversa. Una fiera che sin dall'inizio è voluta essere una fiera per tutti, per le famiglie, per tutta la città e volevamo oggi dedicare un po' di tempo alle associazioni, alle case famiglie in maniera tale che la fiera e le giostre in particolare fossero a loro completa disposizione. Il bilancio è assolutamente positivo. In quattro giorni di fiera abbiamo avuto veramente tanta 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 gente. La città ha risposto in maniera entusiasta alla fiera. c'è stata davvero molta partecipazione. Giostrai, i venditori ambulanti, tutti sono rimasti soddisfatti del sito che quest'anno è stato scelto e siamo pronti a ripeterlo e ripeterci anche il prossimo anno, ovviamente con tanti miglioramenti. Lunedì Luciano Pilato, volontario del gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione Calogero Zucchetto di Caltanissetta, è venuto a mancare. 71 anni, entro 14 anni fa nel gruppo di volontari era il 2008 e da allora si è dedicato al volontariato. Tutti i componenti dell'Associazione lo ricordano come una persona capace, sempre presente e pronta nelle attività. In questo momento di dolore sono propri volontari a stringersi attorno ai familiari. I funerali oggi alle 16 nella chiesa Regina Pacis di Caltanissetta. Alle 15.30 fischio d'inizio delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. La Nissa sarà impegnata all'esseneto di Agrigento contro l'Akragas. 0-0 il risultato della partita di andata disputata il 28 settembre. Si preannuncia una gara attirata e combattuta tra due squadre che vivono condizioni differenti in campionato. Da una parte l'Akragas in vetta, dall'altra la Nissa nella parte bassa della classifica. Gli altri incontri in programma. Don Carlo Enna, Leonzio Taormina, Modica Comiso, Parmonval Resuttana, Rocca Quedolcese, Nuova Igea, Siracusa Palazzolo e Sciacca Mazzarese. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Tribi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'Italia sarà interessata da pressioni medie e livellate unite anche a un passaggio di correnti più umide che portano una maggiore presenza nuvolosa verso la Sardegna, qui con qualche piovasco. Infatti osservando la mappa della nuvolosità notiamo come il nostro paese sia comunque interessato da nuvole alternate a momenti soleggiati. Le nuvole però saranno un po' più concentrate proprio sulla Sardegna, qui con la possibilità per delle piogge. Infatti dallo zoom delle precipitazioni notiamo come proprio l'isola si è interessata dai fenomeni precipitativi, ma anche qualche disturbo atteso sull'arco alpino nel corso del pomeriggio, così come sulla dorsale appenninica. Vediamo più nel dettaglio, quindi il tempo che ci attende nella giornata di mercoledì. Sarà complessivamente soleggiato, con clima sempre molto gradevole durante il giorno, da segnalare qualche banco di nebbia all'alba sulle pianure del nord, specie lungo il Po. Una maggiore presenza nuvolosa poi attesa sull'arco alpino, anche sui settori interni del centro-sud, ma come dicevo sarà la Sardegna a vedere una maggiore nuvolosità, qui con qualche pioggia sin dalla mattinata. Ma per tutti i dettagli consultate l'app gratuita di Trevi Meteo. Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Vizzini, Viale Trieste, Servizio notturno, Romano, Corso Vittorio Emanuele.